La mia proposta di lettura riguarda una raccolta di Attilio Lolini. Attilio Lolini è un poeta senese, scomparso quattro anni fa, il cui primo libro risale al 1974, un libro che fu subito recensito da Pierpaolo Pasolini e che ha al suo attivo numerose raccolte, le ultime pubblicate tutte dall'editore Enaudi. La mia proposta però riguarda una raccolta particolare che si intitola Bestiario Gotico. Cosa ha di particolare questa raccolta? Questa raccolta unisce alla consueta vocazione minimalista e anche un po' nichilista di Attilio Lolini, cioè le sue descrizioni di una vita ridotta al minimo, un'esistenza massificata e rinchiusa negli spazi ristretti delle abitazioni nostre moderne. A questa vocazione si aggiunge nel Bestiario Gotico, che è uscito nel 2014, una vena di tipo surrealista, che è quindi con un apporto di fantasia un po' desueto in questo nostro poeta malpensante, per certi versi affine al vecchio Aldo Palazzeschi, per altri versi riecheggiante, poeti come Corbiere, certo Baudelaire, Maudì e poi soprattutto l'Ecclesiaste. Leggo i testi. Orango. Fatti pure il trucco, rimani un bacucco. L'uomo con le sue cure è sempre la più brutta delle creature. Mentre sale le scale a passo di tango, saltando sul tetto il bellissimo orango. Il grande Batrache. Dentro il silenzio passano immagini, imbilico su voragini di crespo cartone. Sono proiezioni di creature strane, uomini cipresso e donne nane, disperse in una luce che sale da un cono, che illumina un trono dove siede e tasce il grande Batrache. Il grande Batrache sia con voi.